Allora, fai partire la musica, così facciamo un attimino un po' di... Certo, faccio partire la mia videocamera intanto, che registro la nostra diretta, faccio partire la musica. La senti? La sentite? Io la sento. Dai, che stiamo in tantissimi. Io ti sentivo i commenti, partiamo con il riscaldamento e poi... Ivana, basta la videocamera, che se lavori a terra non ti vediamo, eh. Sì, no, ma ci sono qua, ci sono qua. Se lavori a terra non ti vedo. Poi apri a basso io, apri a basso. Ah, ok, va bene, tolgo i commenti ragazzi, buon allenamento. Vai, tramping jabs. Classici. E' così. Cambio. Great slip. Faccio partire l'allenamento. La senti la music? Voglio capire se a casa la sentono. Sì, sì, ma io la sento bene, quindi anche gli altri la sento. Ok. Ok. Cambio. Forza, 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 forza. Duffing jabs ancora? Ti piacciono, eh, i Duffing jabs? Eh, ci piacciono. Per quanto facevamo agli lamenti al barco, in Duffing jabs. Allora, mi chiami jabs. Jabs. Ma che sembri? Proprio un tamarro con quel cappello. Eh, lo so. Vai, continuate. Mamma mia, ma dai, ma la dottoressa Castronovi di quegli arteli. Sì, no. Il gatto, lei durante la notte cerca di incendiarmeli, quindi... Eh, ti vogliamo per atto. L'ultima. Circonduzioni. In avanti, dieci. Indietro. Mani sulle spalle. Circonduzioni dietro. Ancora, 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 ancora. Yes. E mani sulle spalle. Avanti. Ok. L'ultimo giro di jabs. L'ultimo, l'ultimo. Tu eri in studio, quindi? Eh, stamattina sì. Poi mi sono spostato a casa. Eh, bravo. Però domani sì. Non è in studio. Stop. Ok. Sorso d'acqua. Allora, ragazzi, stassi qui dietro, eh. Abbiamo falso squat. Affondi pendolo destro. Affondi pendolo sinistro. Pistol squat con la sedia più jump. Destro e sinistro. Un signor pistol squat con la sedia. Ok, va bene. La sedia, la sedia. Scusa. Ok. Scusa. Perfetto. Allora, faccio partire il tonometro. Ok, ti seguo. Eh. Uno. Falso squat. Giù. Giù e salto a metà. Iniziamo già subito. Con un bel esercizio. Bene. Quindici. Cinque. Stop. Cambio. Facciamo gli affondi a pendolo. Quindi avanti e indietro. Stiamo con la stessa gamba. prendo le bottiglie. Prendo le bottiglie. Posizione. Via. Affondo avanti. E indietro. Sempre con la stessa gamba. Yes. Se non avete le bottiglie, no problem. Però se non avete la sedia, è un problema. Perché i pistol squat senza sedia, io non li fo. Tre secondi. Stop. Ciogliamo. Cambio. Altra gamba. Dieci secondi. Gamba sinistra, eh. Sì. che si muove. Posizione. Via. Dieci secondi. l'ultima. Yes. Cambio. Certo la sedia. Pisto squat. Prima con la gamba destra. Poi con la gamba sinistra, eh. Yes. Andiamo giù. Tanto. Fa pure col salto la faccia. Eh sì, eh. Dieci secondi. l'ultima. Cambio. Sciolgo. Bravi, eh. Guarda. Che roba. Posizione. Sinistra. Sorghi. Giù. Altra gamba. Prima con la gamba. E ora con l'altra. Cos'è che c'è dopo? Jump squat. Ok, perfetto. Dieci secondi. Cinque. Cambio. Via la sedia. E jump squat classic, eh. Posizione. Posizione. Via. Bene. Wow. Yeah. 20 secondi. dal resto tre top riposo un minuto ci riposiamo, sorso d'acqua altro giro senza esercizi wow quindi ragazzi togliamo pendolo destro, pendolo sinistro poi sedia destra sedia sinistra jump squat e come primo esercizi o i pulse squat wow oh che bello bello, la gente si può allenare a casa al parco, ovunque 20 secondi, ripartiamo ascolta, ma tu a Milano quando è che ritorni? eh, quando apro le regioni perché se torno ora rimango bloccata lì sì, 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 sì eh, lo so col cacchio posizione 5 secondi falsi squat passiamo tutti giù salto a metà 20 secondi 10 secondi 10 secondi 10 secondi 3 cambio tolgo wow pendolo condi pendolo gamba testa bottiglie wow che tonificazione destra via 10 secondi 10 secondi l'ultima l'ultima cambio sciolgo 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 5 secondi posizione sinistra sì l'ultima rest stop cambio sedia pistol pistol pronti salto 5 secondi stop facciamo bene con su lato altra gamba giù via 15 secondi 5 ultima stop via sedia jump squat classici ok posizione giù giù ancora 10 secondi 3 l'ultima stop per foglio wow bene un minuto bravi eh apri la finestra mamma mia cosa abbiamo ora apriamo la finestra ci riposiamo un minuto e cambiamo esercizi wow mostraci burpees a faccia push up climber incrociati figo walk down più stardust e push up te le faccio vedere sì lo stardust me lo fai vedere lì sedia affondi indietro incrociati e jump più pulse ok tu stami dietro sì sì e si vola let's go vogliamo insieme iniziamo con i burpees sette secondi complete burpees eh sì sì ovvio via ultima yes push up push up big climb ben incrociati eh ok posizione 5 secondi ok incrocio 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 giu incrocio 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 giu incrocio altora ora wow brucia ma la forza su incrocio incrocio l'ultima incrocio incrocio stop Cambio Walk down Più stardust E push up Cos'è lo stardust? Parto Giù Stardust Push up Salgo Ce l'ho Stardust Uno Due Forza, veloce Tre Ultima Stocco Stocco Cambio Visto sulla sedia Acchiappo Sedia Sedia Via Super Vento, naso, cuore bocca Braccia proprio On fire Ancora Ancora Tutto in cuore Capio A fondo A fondo indietro Facili questi Questi facili Avanti La gastronomi Via A fondo indietro Destra e sinistra Esatto Mamma come ti ho anticipato Ancora prima che me lo Mostrarsi Bene E' così Ah, ciao 20 secondi Forza, forza Questi mi piacciono Ciao 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 Bella Stop Cambio Wow Tuo jump più pulse Ok Quindi jump Scendo A metà E poi salgo Nuovo Posizione Tutto su Scendo Mezzo Tutto su Ce l'ho Mezzo E così via Bene Bene Così Forza Ancora 10 secondi Forza Forza L'ultima Stop Tipo Un minuto Bevo Acqua Supero Già 17 minuti 18 Bene Molto bene Molto bene Facciamo 6 giri Total Body Gli ultimi 4 Per la gomma Adoro Lo sai Voglio vedere un po' di cuore Raga Cuore a manetta Ivan è quello di cuore Io non mi avvicino Perché sto filmando Anche con la videocamera Sennò mi va via Il focus 15 secondi E riprendiamo Con i barkis Quelli classici Con push up Un minuto Ti Più Un po' di ultima stop yes push up i climb per incrociati pronti posizione via incrocio giù incrocio giù e ancora forza l'ultima stop cambio sedia walk down ah giusto star dust push up 3 secondi via giù star dust push up e su star dust push up wow yes no ma mi si è andato via lì Ivan eccoti finito dip dip persi posizione posizione via forza forza 15 forza l'ultima stop cambio pazzo 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 5 secondi posizione giampo giù pazzo giampo giù pazzo così via 15 secondi 15 secondi 25 secondi Ci sono. Posizione. Via. Questi sono facili. Strizza le chiappe. A me questi piacciono. Sento proprio il gluteo che si tira su. Esatto. E lavori anche i muscoli stabilizzatori. Mi spiace un sacco. Riposi un minuto. Che bello. Bel secondo round. Riposiamo. 200 calorie in 23 minuti. Il prossimo circuito. Facciamo. Vai. I vartis e mountain incrociati. Ok? Stica. Stica con due bottini di acqua. Sì. Affondi bulgara sedia. Sinistra e destra. Heat thrust con il peso. E plank con oscillazioni laterali. Fantastico. Ok. Ti seguiamo tutti. Caro Tamarro Lurgo. Vai. Tamar Rurgo. Tamar Rurgo. Secondi. Roll up. Ivan Marro. Vamos. Via. Mani. Incrocio. Giù. Ancora. Incrocio. Giù. Io faccio il salto eh. Quando mi tiro su. Ancora. L'ultima. Stop. Vengo su. Il traster. Con le tue bottiglie. A chiappo. Io prendo il mio peso. Giù. Wow. Drizzate il cue. 10 secondi. Stop. Sopra. Cambio. Affondi. Bunga la destra. Schiapposeglia. Posizione. Prima con la gamba destra. Sopra. Sinistra. Via. L'ultima. Cambio. Sciolgo. altra gamba posizione via ma anche tu hai una gamba più forte dell'altra io la destra più forte eh io l'altra forza forza due ultima stop cambio plank con oscillazioni laterali laterali posizione via dieci tre uno stop e riposo bene così riposo acqua male che ho preso il pre workout brava giuda ormai come un uomo ah ci manca ancora un esercizio lift thrust a terra hai ragione col peso pronti giù via 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 a terra a terra a terra stop yes una cosa riposo adesso, un minuto, riposiamo, ok, e lo ripetiamo? Sì, facciamo, push up, roll up, barfis, climber, thruster, bulgara destra, bulgara sinistra, intrasse e plank, fantastic, tra 30 secondi ripartiamo, con i roll up, 250 calorie ho bruciato, la Giulia si sta mangiando l'agendaz, maledetta, maledetta, non mangio un agendaz da, non lo so, dicevo artistico, pronti? 5 secondi, roll up, yeah, via, roll up, climb, push up, and stop, yeah, grazie, manubri, pronti, vamos! 5, ultima, stop, cambio, yes, bulgaro, 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 bulgarà, 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 via, posizione, via, via, 2, cambio, pronta, pronta, pronti, tutti pronti, via, l'ultima, yes, con i pesi, esatto, giù a terra, via, l'ultima, oh, cambio, thank you, con i pesi, posizione, con i pesi, e uscillo avanti, indietro, destra e sinistra, olè, olè, coniato, nuovo esercizio, riposo, bene, 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 wow, basico, 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 crunch inverso, libretto, sforbiciate, plank, adoro, adoro, ripeto due volte? Sì, ripeto due volte, sempre con 60 secondi di pausa, siamo giù, pronti, eh, sita, su, le bottiglie, su, le bottiglie, e niente, l'ho dimenticata, le bottiglie lascio lì, ripeto, 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 tanto ti svelo un segreto, sono vuote, vabbè, però sono di ferro, pesano, l'ultima, su apriposo, bicycle, col, pancia bicicletta, alternati, eh, su, 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 forza, 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 stop, inverso, eh, sì, inverso, uh, mani sotto i glutei? Eh? Mani sotto i glutei? Sì. Crunch inverso, no? da potesse, ti diamo il pello? Uff, 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 va bene, va bene, va bene, ti piaccio fare il calcaplank? ti piaccio fare il calcaplank? Francia, calibretto? Ok. Io gli chiamo i panini. Uff, così scusami, no, non sono i panini. Uff, 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 10 secondi, 3, 2, 1, stop, e poi i plank classici, yes, con fronte a questo c'è una passeggiata. Ma riposo, riposo attivo, posizione, via, ormai ci mangio così, 10 secondi, stop, riposo, 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 riposo. Dai ragazzi, forza, un giro di questi e altri due giri del nuovo ciclo e poi stop. Aspetta, un giro di questi e poi altri due? Sì. Stop. Siamo a 40 minuti adesso. Esatto. Ma guarda che sono le 6 e 17, prima delle 6 e 30 dobbiamo chiudere. Sì, va bene. Se no, si cancella. Via. Sì, va bene. 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 Allora, torniamo, eh. Pronti? Su. Sì, va bene. Hanno. stop francia inverso inverso, con le mani si può salire ovviamente posizione su 5 5 stop super tanto libretto posizione su 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 via via 10 5 secondi 2 stop 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 5 secondi yeah e posizione via abbiamo 8 minuti mi sa che facciamo in tempo a fare un giro dell'ultimo circuito sì sì così siamo sicuri che non si chiuda 15 secondi 5 riposo ci riposiamo solo 30 secondi bravo ok 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 vai vai ah la musica aspetta che se no ok ok vai ti guardo oh ma io questi non li so fare mi lato senti mi lato bellissima così 15 secondi 3 oh oh ma non li ho mai fatti io questi laterali così l'altra parte via via o o o o o 3 secondi cambio panino libro, libro libro panino via uff Ufff 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 Gagno Spire Shoot The Shrap C Mercury A Spire ah ok ok spider non avevo capito questo qua yes ce l'ho ancora 10 secondi l'ultima stop l'ultima ultima ok 5 secondi posizione e lavoro running 20 10 7 2 1 e riposo 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 fantastico bravi ragazzi bravi bravi bravo bravo grazie bravo